Quindi c'è una risposta anche in questo senso. Queste mi parevano le due questioni più importanti sulle quali ero opportuno dare una risposta. La ringrazio, Sottosegretario Barretta. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto legge ed ha chiesto di intervenire il Ministro per le riforme costituzionali e rapporti col Parlamento, Onorevole Boschini, a facoltà. Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, a nome del Governo autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti nei articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge numero 78 del 2015, nel testo della Commissione identico a quello già approvato dal Senato. A seguito della posizione della questione di fiducia, avverto che, come già convenuto nella riunione della conferenza dei Presidenti di gruppo del 30 luglio 2015, la votazione avrà luogo alle ore 12 di domani, martedì 4 agosto 2015. Le dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei gruppi si svolgeranno a partire dalle ore 10 e 15. Dopo la votazione della questione di fiducia, si procederà nella stessa giornata di domani all'esame degli ordini del giorno e della votazione finale. Il termine per la presentazione degli ordini del giorno è fissato alle ore 17 di oggi, lunedì 3 agosto. Il seguito quindi dell'esame del provvedimento è rinviato alla seduta di domani. Colleghi, adesso facciamo una pausa tecnica e la seduta riprenderà a mezzogiorno e 15. Grazie a tutti.